Il perché avete scelto la canzone cover, perché molti gruppi non la fanno Perché avete scelto quella Ma è di l'ultimo? No, ma sempre io parlo Parla Ma cantate, io il batterista non parla Se mi dai un paio di bacchette ci penso Perché noi abbiamo fatto l'anno scorso un tributo ai nomadi Tributo a gusto da olio per 3-4 date Accompagnando come band, diciamo resident band E qui c'erano dei cantanti, tipo il cantante degli Hydra Ammettilo però, che era molto poco sentito l'anno scorso Però devo anche ammettere che, man mano che andavo avanti con i nomadi Io guardano le maglietta, capisci che i nomadi potevano essere molto... Ma se sto a una maglietta con su scritto, si dici Poteva essere molto del mio genere Però invece ho sentito del bello dentro i nomadi Infatti dopo ci siamo piaciuti, abbiamo continuato con questo progetto Andare avanti a fare il tributo ai nomadi proprio E Asia è una canzone che si è sempre colpita Abbiamo deciso di farla stasera Bene, è una cosa che abbiamo apprezzato Perché non tutti qua decidono di farlo Perché deve essere una perdita di tempo Fanno male, fanno male Fanno male, esattamente Ti dico che fanno male VIN! Grazie 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 Grazie